Vi aspettiamo ai nostri licei nelle giornate di Open Day a partire dal 29 novembre. Per venire ai nostri Open Day non c'è bisogno di prenotazione, mentre vi aspettiamo alle nostre lezioni aperte, suddivise per indirizzi. Per prenotarsi basta collegarsi al sito dell'Istituto dei Licei Giovanni da San Giovanni. Vi aspettiamo!